192 mila 192 mila di che anno è? 93 93 93 io mi compra il volante in legno l'avevo messo pure sulla mia abbiamo scoperto che era un optional cioè tutto quanto il sistema c'è in grado attenti posso riprendere? io non ho alcun problema allora francesco uno di noi amico del diana del diana nazionale si assicura è un buon custaglio si assicura col panzone un oggetto questa è stata mitica è tuttora mitica perché poi in queste condizioni è solo sporca rgt 16 valvole questa ma bianco color ma non è denigratorio bidet perché anche ieri un mio amico si è comprato io devo assicurare un 99 euro turbo s cabrio bidet bianco e bianco questa macchina io la mia prima macchina è stata una golf gt dell 81 con gli stopponi guarda il volante momo guarda che roba posto che meraviglia che meraviglia questi interni interno in tessuto della golf i sedili contenitivi perfetti perfetti macchina tenuta in maniera incredibile rcd rcd e il frontalino levato se no te lo zanzano il romanticismo e poi questa questa qui fu questa qua perché le antenne erano terrificanti quelle stotte si storciva e rimanevano fuori questa e questa qua però originale costava un botto perché questa era amplificata questa è un'antenna amplificata per costava un botto io però la volevo sul mio gt però amplificata costava un botto ma la sono comprata commerciale e ce l'avevo messa che macchina le passioni oggi asi questa oggi asi quindi manutenzione sostenibile quanto ti piace? 100% quanto stai bene lì dentro sorrido dalla mattina alla sera con tutto che lavoro dalla mattina alla sera questa è musica questa è musica veramente sorrido le passioni andrebbero incentivate e invece che fanno ritogliono i 30 anni ma quanto oggetti tu avrai avrai preso niente due quattro soldi ma a chi vuole spendere a chi vuole investire nelle passioni in quello che lo fa ridere senza che questo ride dentro la macchina senza che qualcuno lo debba far ridere ma andrebbe incentivato secondo me sto male e fateci ridere e se non siete in grado di farci ridere incentivateci chi spende andrebbe incentivato non andrebbe martorizzato e allora contributi per chi compra bene macchine secondo me sto male che macchina grazie per la scelta assicurativa c'è un buon custaglio e viva la vita grazie per te grazie per avermela fatta vedere che è meravigliosa è un oggetto erotico grazie grazie